Tutti pronti Uno, due, tre, quattro, cinque, sette Sette ho Uno, due, tre, quattro, cinque E ma lo sai Adesso c'è stata la risposta da un giro Sì, un giro Un giro E ciò rimangono a basso E' questa qua la squadra C'è un sacco di cose Non fanno parte la squadra Facciamo la greff, una mette Il tipo qui non è da me L'altro, non è da me Qui Ah, chi viene e chi non viene sempre Io ci metto una volta Inutile che ci mettete Ci sono cristalli, ci sono qua a parare Non è inserito Non lo dobbiamo sapere E chi che sta là a basso Dice, guarda, io ci ho chiamato Per parare a squadra Ma se noi arriviamo qua, poi arriviamo a basso E noi non potremmo chiedere Noi non potremmo fare il quattro Amatino perché Se non va a girare Non ci potremmo chiedere a chi mi inserisce I piedi mi inseriscono lo stesso Sì, te lo vado a fare E ma c'è fatto il lavoro Non ci sono bene Però in Italia ci sono un euro Ma non ci sono Ehi, non lo sai che è Ma cosa è, mister? Se qui mi inseriscono Ma no, di tutto qui Stanno andando a squadra Ma nella squadra È diverso Tu nel video Le cimeno Poi che nemmeno Tu scordo pure Ma se che ti va a leggere E tu Non c'è la roba Ma nulla ma se lo sapevi A Roma A partire Ma che stanno lì A fonti Ma più Ma nghese Ma ψè Ma 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 Alla Ma sebagai trunk Ma Ma Pa Ma 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 Voi venite un attimo, mi piacete. Oh, tu nei ragazzi di venire. Oh, si, da tu stai avuto qua. Oh, si, da tu stai avuto qua. In lunga stavano domani, mi stai la fin, fa schizzi. Fa schizzi. Al zoom, mi stai la faccio focata. Eh, non so' giusto. Oh, oh! Che è che ha? Oh! Oh! Non so' giusto. Non so' giusto. Mi devo inserire sti nomi, mi hanno una formazione. Mi devo inserire sti nomi. Di che sei? Mi stanno scelto, ma... Ma... Ma qua c'è la tenza. 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 Se la ritrindono è più, ora c'è la tenza. No dai! Guardiamo, non so' giusto! Ma qui? Grazie a tutti. 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 Baccaro, come si chiama quel ragazzo che non ha il numero? Il ragazzo che non ha il numero, come si chiama? Cricatino dopo. Oh! Oh! Stai facendo! Se vuoi, mi stai, se vuoi! Andiamo! E tu facciamo la scuola? Ma che cosa? Mi stai, mi stai, mi stai, mi stai! Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Prestiscito! Unga! 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 Non da Unga! 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 Cent韭uali, cent韭uali! no, no, no. Grazie. Grazie. Non lo conosco. Com'è il nome? Chi ha segnato? Com'è il nome? Non lo conosco. Esce! Sei già a fare. Il primo di voi. No! Facci! No! Vai ragazzi! Cambia, 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 cambia. Cambia, cambia, cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia, 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 cambia. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti